Ecco uno dei volti nuovi del Pescara, Stefan Omeonga, arrivato dal Genova, si parla molto bene di te, arrivi in una società ambiziosa come il Pescara che vuole far bene nel prossimo torneo dopo la sofferta salvezza dell'ultimo campionato. Bene, perché anche io sono ambizioso, penso che abbiamo fatto, cioè non è ancora finito il mercato, però abbiamo fatto già qualche buon acquisto e poi il gruppo è bello dinamico e abbiamo tutti fame e voglia di far bene. Molti si chiedono come mai Stefano Omeonga giochi in Serie B, giocatore che potrebbe giocare molto tranquillamente in Serie A. Però non sono l'unico, se si guardi la rosa ci sono anche dei giocatori che hanno la qualità per giocare in A, ma se siamo là è per un motivo e abbiamo tutti voglia di salire, abbiamo voglia di far bene e poi si vedrà come andrà il campionato. Sei giovane, ma hai già una certa esperienza in Italia, hai giocato in una provinciale come Lavellino, ma poi hai indossato la maglia del Genova. Arrivare a Pescara per te oggi cosa significa? Io ho visto questa piazza come una piazza importante, Pescara è una società importante, che anche nel passato ha dimostrato di essere una bella società e quindi il campionato che ha fatto l'anno scorso non è da Pescara, quindi io sono venuto qua solo per far bene, per rilanciarmi anche. Il presidente sia il mister mi hanno dato questa fiducia, hanno creduto in me, devo ringraziarli e anche dimostrare sul campo che sono un bel acquisto. Trattativa veloce, come è nato questo interessamento del Pescara e come si è chiusa questa trattativa poi? Io ho parlato con il mister Odo, è lui che mi ha dato questa voglia, che mi ha dato questa sicurezza di venire qua e è vero che questa trattativa è andata veloce, però è meglio, così sono venuto più presto e sono venuto per vedere i ragazzi e anche conoscere il mister e tutti. Per chiudere, quali le tue caratteristiche, dove preferisci giocare? Perché sei un giocatore tra l'altro molto duttile tatticamente, qual è il modulo che preferisci? Il modulo che il mister sta facendo mi piace, facciamo il 4-3-3, non lo so se giocheremo così però posso fare tutti i ruoli al centrocampo e ovunque il mister mi metterà io darò il massimo. Grazie. Grazie.